Ciao, bentornato sul mio canale. Oggi voglio parlarti del bonus disabili per genitori monoreddito o genitori disoccupati. Oggi voglio approfondire con te questo dettaglio. Sappi che la domanda è presentabile dal 1 febbraio 2023, durerà poi chiaramente per tutto quanto l'anno. Vado a leggere con voi. Si parla di un bonus che varia da 150 a 500 euro al mese in base al numero di figli disabili. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo del 2023. Il contributo spetta anche a quelle famiglie monoparentali che hanno a carico un famiglio disabile con almeno il 60%. Il genitore, attenzione, deve essere disoccupato o monoreddito. L'erogazione prescinde dalla proprietà della casa ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Quindi chi percepisce il reddito di cittadinanza può richiedere pure questo ulteriore bonus. Attenzione, cosa importante, non concorre alla formazione del reddito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che qualora voi avete già un reddito, questo bonus non va ad alzarvi la soglia dell'IRBF e di conseguenza farvi pagare delle tasse. Quindi è un bonus a tutti gli effetti. L'INPS specifica che la persona disoccupata, ovvero il genitore disoccupato, è la persona priva di impiego oppure il dipendente che non supera gli 8.145 euro l'anno o 4.800 euro l'anno se un lavoratore autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa sia pure prestata a favore di una pluralità di datore di lavoro. Quindi se un solo genitore, faccio un esempio, un collaboratore domestico ha 3 o 4 datore di lavoro, l'importante è che il cumulo dei redditi non supera gli importi che vi ho appena indicato. In quel caso si intende comunque monoreddito. Bonus disabili. Quanto spetta? L'importo dei contributi varia a secondo del numero dei figli a carico. È pari a 150 euro al mese in caso di un figlio a carico. 300 euro al mese in caso di due, 500 nel caso in cui siano più di due. Bonus disabili. Per far la domanda bisogna essere residenti in Italia, disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore ai 3.000 euro, essere disoccupato o monoreddito, far parte del nucleo familiare come definite fin ISEE in una persona in cui vi sia una persona disabile riconosciuta almeno al 60%. Quindi devono esserci tutte queste caratteristiche, dal valore ISEE al valore rituale. La domanda si può presentare direttamente tramite lo sfide dell'IMS, bisogna collegarsi al sito www.imps.it e dopodiché andare a digitare sulla barra dell'IMS contributo genitori con figli con disabilità. A quel punto si apre il servizio e potrete andare a inserire la domanda. Se avete delle domande scrivetemi qua nei commenti, penso di aver spiegato quello che prevede questa iniziativa e questo bonus. Comunque se avete delle domande scrivetemi tutto, ricordate di mettere un like al video e iscrivervi al canale, solo così sarete sempre aggiornati sulle novità. Un saluto e un abbraccio. Ciao! 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 Ciao!